E a questo punto diamo subito la parola a Dante Fasolini e Dario Bellingeri, che vogliono testimoniare anche plasticamente la cooperazione interistituzionale, nel senso che il primo è di ERSAF, Dante Fasolini, e il secondo è di ARPA Lombardia, quindi le due istituzioni che in Lombardia da tempo, con grande professionalità e perizia, seguono l'evoluzione dell'uso del suolo nella regione Lombardia. Se funziona tutto, se no posso anche raccontarvi una storiella. No, 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 perché sennò dopo porti via il tempo. Allora, buon pomeriggio, sono Dante Fasolini di ERSA, come vi ha anticipato Damiano, e faremo con Dario Bellingeri di ARPA Lombardia questa presentazione, che un po' fa il punto sulle attività che vengono svolte in regione Lombardia per quanto attiene il monitorare, non parlo di consumo di suolo, anche se nel titolo è presente, diciamo delle variazioni delle classi d'uso del suolo. Allora, Regione Lombardia ha iniziato, diciamo, ha messo in campo dall'inizio degli anni 2000, più o meno, una sorta di piano di monitoraggio a sua insaputa, nel senso, che ha iniziato con una prima versione di una carta dell'uso e copertura del suolo, che ai tempi è stata denominato DUSAF, in quanto appunto il mio ex direttore era un fanatico degli acronimi, per cui si è inventato di tutto e di più, diciamo, nel suo corso d'opera, però, per cui lo chiamava destinazione d'uso, in realtà questo è un uso e copertura del suolo. Per cui, all'inizio degli anni 2000 abbiamo iniziato questo processo che ha portato alla realizzazione, nel corso degli anni, di almeno sei versioni di questa cartografia dell'uso e copertura del suolo, utilizzando sempre più o meno dei criteri simili, anzi uguali, direi, nel corso di questi rilevamenti. Per cui, appunto, come potete vedere nella slide, diciamo, quello che ho riportato come acronimo di DUSAF, nella versione 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 5, ha avuto, diciamo, anche delle versioni antecedenti fatte negli anni 50 sul volo GAI e poi negli anni 80 fatto su un altro volo che, comunque, su cui il Regione Lombardia aveva fatto la Carta Tecnica Regionale. Sostanzialmente il monitoraggio di queste variazioni d'uso del suolo serve per, diciamo, per definire una serie di caratteristiche e di evoluzioni del territorio, e qui ce ne sono elencate alcune, si fa il monitoraggio per valutare, oltre al consumo del suolo, l'impatto sul territorio, l'impatto sul settore agricolo, sull'impermeabilizzazione, la gestione delle acque, il carbonio, la biodiversità, insomma, su tantissime tematiche. Giusto per fare un esempio, prima si parlava, almeno stamattina si parlava, del cambiamento di uso del suolo e di trasformazione del suolo, che sarebbe buona cosa farlo non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo, perché abbiamo fatto una prova un paio di anni fa, incrociando i dati delle nuove aree antropizzate, rispetto alla carta della capacità di uso del suolo e della line capability, e si vede che comunque la maggior parte di queste nuove aree antropizzate si collocano sui suoli mediamente di classe 1 o 2, cioè suoli migliori da un punto di vista delle potenzialità agricole. Per cui anche questo, nella pianificazione, sicuramente la componente qualità del suolo consumato dovrebbe essere proprio uno dei caposaldi. Purtroppo così non è, però sarebbe sicuramente una cosa da considerare. Per cui appunto, questo è l'esempio per quanto riguarda la potenzialità agricola, però poi l'impatto è sulla globalizzazione climatica, mitigazione del cambiamento climatico, eccetera. Oltre, diciamo, i conteggi e un approccio qualitativo, questo monitoraggio serve anche per dare, per far, dà la possibilità di capire anche l'evoluzione del territorio, anche dal punto di vista della storia, della storia dei nostri ambienti, dei nostri territori. Per cui qui semplicemente c'è la rappresentazione di tre foto, di tre periodi storici della stessa area in cui si vede, negli anni 50, con una struttura paesaggistica impostata più o meno sulla piantata, diciamo, per cui piccoli appezzamenti agricoli intervallati da filari a vite maritate, eccetera, eccetera. Per cui negli anni 70, questa è un'ortofoto appena realizzata, in cui si vede già l'impatto della rivoluzione agricola, tra virgolette, della meccanizzazione, in cui abbiamo l'accorpamento, il forte accorpamento degli appezzamenti e la scomparsa, direi, della parte alberata, chiamiamola, e poi, diciamo, all'attualità, dove questa cosa si è portata a termine e c'è uno sviluppo molto significativo della parte antropizzata. Per cui, diciamo, questo sistema di monitoraggio dà anche un'idea di quello che è la storia, insomma, dei nostri ambienti, l'evoluzione della storia. Le caratteristiche di queste banche dati, che vengono appunto periodicamente realizzate, sono, diciamo, delle banche dati realizzate per fotointerpretazione e con l'utilizzo anche di banche dati ausiliarie. Il dettaglio informativo delle banche dati è di una scala al 10.000 e, diciamo, il poligono limite è 1.600 metri quadri, per cui, diciamo, tutte le volte vengono fatte degli aggiornamenti sulla base di questi requisiti. viene utilizzato il criterio dell'invarianza, per cui viene usato una stessa struttura geometrica laddove non c'è variazione e gli archi nuovi vengono attaccati, tra virgolette, agli archi esistenti. Per cui, diciamo, è possibile un confronto molto funzionale, insomma. Per quanto riguarda la leggenda, la leggenda è una leggenda mutuata dal Corrin Lankover, per quanto riguarda le prime tre classi, diciamo, dal punto di vista gerarchico, a cui di fatto si sono affiancati degli approfondimenti alla quarta e quinta classe, in cui è stato possibile realizzare il rilevamento grazie, appunto, all'utilizzo di quelle che sono le banche dati ausiliarie. Naturalmente le banche dati ausiliarie che avevamo a disposizione quando abbiamo iniziato il lavoro. Queste sono alcune delle banche dati che abbiamo utilizzato e utilizziamo per fare questi aggiornamenti dell'USAF. Sostanzialmente sono i dati del fascicolo aziendale, di quello che in Lombardia viene chiamato SIAL, adesso SISCO, che è il sistema informativo agricolo regionale, però a livello nazionale è SIAL, per cui alla fine è un dato che è presente in tutta Italia. All'inizio di ogni annata agraria l'agricoltore deve dichiarare che l'agricoltura fa sugli appezzamenti che avrà in gestione nell'annata agraria. L'informazione relativa alle tipologie forestali, anche questo è un'informazione che negli anni è cresciuta ed è di derivazione della pianificazione di settore in ambito boscato e per cui è una cosa di cui si tiene conto, anche se adesso, soprattutto considerando le classi di bosco presenti nella leggenda d'USAF, che non sono particolarmente spinte, l'utilizzo delle immagini di Sentinel, invernali, già da una buona discriminata, una discriminata molto precisa per quanto riguarda l'individuazione misto, latifoglie e conifere. Poi ci sono altri archivi, l'archivio delle attività produttive, ma è stata utilizzata anche la mappa delle popolazioni residenti fatta da ARPA, quanto riguarda di fatto la popolazione iscritta al registro sanitario, l'anagrafe zootecnico è un'altra banca dati che è stata usata soprattutto nel passato per individuare per esempio le classi relative al produttivo agricolo. Questo è una slide che abbiamo fatto vedere più volte, però, qui si parla dei 55, però, giusto per capirci, è l'evoluzione del territorio per quanto riguarda il primo livello di classificazione, per cui lo sviluppo dell'urbanizzato. Allora, venendo un po' all'analisi dei dati di queste variazioni, anche qua, come potete vedere, l'evoluzione è confermata, non mi dilungo più di tanto, perché poi l'abbiamo tutta mattina si è parlato di queste cose qua, per cui, diciamo, c'è un sostanziale continuazione dello sviluppo delle aree antropizzate e della sottrazione e diminuzione di fatto del suolo agricolo, che viene testimoniata comunque anche da questi dati, seppur, diciamo, come si ripete, ripetendo quello che veniva detto stamattina, un leggero decremento per quanto riguarda, appunto, il discorso della variazione annuale delle aree antropizzate. Nella tabella potete vedere dei valori in termini percentuali, mentre nei grafici sono espressi proprio migliaia di ettari di fatto di trasformazione. Questa è una slide che semplicemente dice cose analoghe, però facendo un rapporto con quelli che sono, diciamo, gli abitanti che nel giro dei 15 anni, circa 16 anni di vita di questo progetto, ha visto un aumentare di circa un milione di abitanti in Lombardia, per cui, di fatto, comunque, come possiamo vedere, sia dei grafici che delle tabelle, sostanzialmente vengono ridetti gli stessi dati, però incrociandoli con questa, diciamo, dando l'indicazione pro capite, insomma, per cui anche qui è chiaro che è un processo che vede comunque una costante diminuzione delle aree agricole e un aumento comunque delle aree antropizzate pro capite.